Il governo Renzi come sta danneggiando i rifornitori? Praticamente ha avuto un'altra bella pensata, ovvero i fornitori della grande distribuzione non dovranno più fare la fattura con l'IVA, quindi questi piccoli fornitori o fornitori della grande distribuzione dovranno pagare subito l'IVA acquisti, mentre l'IVA vendite, e quindi potevano compensare e avere liquidità, non lo potranno più fare, ovvero cosa significa? Che lo Stato si incassa l'IVA di questi fornitori, poi con calma deciderà se gli spetta o non gli spetta, però cosa succede nel frattempo? Queste imprese non avranno liquidità e abbiamo già visto diversi fallimenti di imprese che devono ricevere soldi, non li ricevono e falliscono. Ricordo sempre che il fallimento di un'impresa non è solo il fallimento dell'impresa, ma è anche la perdita di molti posti di lavoro. Noi stiamo battagliando, stiamo sottolineando queste mancanze da parte del Governo, questa mancanza di attenzione verso il lavoro che è indegno e continueremo a battagliare.